Ma che dobbiamo avere coraggio, dobbiamo avere il coraggio delle nostre ragioni, cioè di chi deve difendere il mondo del lavoro, di chi deve proporre l'avanzamento sul terreno dei diritti sociali, sul terreno delle libertà civili. L'Italia è un paese spaventato, in crisi, è un paese assediato dalle paure, è un paese che fa fatica ad accorgersi dei nuovi soggetti che chiedono più libertà. Credo che abbiamo bisogno di dare coraggio all'Italia migliore che è stata umiliata dal berlusconismo ed è piegata anche dalle ricette del Presidente Monti, di questo governo che fa danni al nostro paese.